Il picco dell'inflazione in Toscana è stato ad ottobre quando raggiunse 13,9% ma la frenata sui rincari è ancora molto lenta e a luglio l'Istat ha certificato che l'indice dei prezzi al consumo dei generi alimentari e delle bevande analcoliche si è assestato al 10,4%. In sostanza nei primi sette mesi del 2023 ogni famiglia toscana per mangiare ha dovuto spendere 390 euro in più contro i 195 dei primi sette mesi del 2022. Nella geografia dell'inflazione è Grosseto al primo posto con un aumento dei prezzi del 12,7% seguita da Livorno, Pistoia, Siena e Massacarrara. Sotto la media regionale ci sono Arezzo, più 9,9%, Pisa, 9,6% e Firenze che chiude la classifica con un tasso di inflazione sui generi alimentari del 9,5%. La presidente di Coldiretti Toscana Letizia Cesani parla di una tempesta perfetta che si è abbattuta sui generi alimentari, frutta e ortaggi a luglio sono cresciuti rispettivamente del 13,8% e del 19,8%. Da un lato gli eventi climatici estremi hanno inciso sulla disponibilità dei raccolti delle produzioni agricole, dall'altro il caro benzina ha pesato sulla logistica. Solo questi due elementi, spiega, arrivano a pesare anche un terzo del totale dei costi di frutta e verdura. Poi ci sono le tensioni internazionali dovute alla guerra in Ucraina che destabilizzano i mercati finanziari fino alle speculazioni lungo la filiera che fanno anche triplicare i prezzi al consumo. Più passaggi ci sono tra l'agricoltore e il consumatore, più il costo di quel determinato prodotto aumenta, ricorda Coldiretti, che consiglia di fare acquisti il più possibile a chilometro zero, magari direttamente dagli agricoltori o nei mercati contadini, e non cercare per forza il frutto perfetto perché piccoli problemi estetici non ne alterano le qualità organolettiche e nutrizionali.